Ormai certo un appuntamento da non mancare, saremo anche per il diciannovesimo anno consecutivo al Marina Porto Turistico di Pescara, grazie anche al patrocinio del Comune di Pescara, ma non solo la Befana nostra arriverà dal mare a bordo di un bellissimo gommone, assieme a degli animali ci saranno presenti anche i cani di salvataggio, oltre ai bagnini, ci sarà anche un bellissimo gruppo di cavalli e la Befana si porterà con sé anche dei gufi che aglieteranno tutta la giornata. Oltre a questo ci sarà anche tantissima musica e a tutti i bambini presenti la Befana regalerà un dono. All'interno del Porto Turistico Marina di Pescara alle ore 11 lunedì 6 gennaio ci spinge la forza dei bambini e i complimenti dei genitori proprio perché è una giornata all'insegna del divertimento, della musica, ma anche nel riscoprire quello che è la nostra cultura marinaresca e quindi l'amore per il mare. Arriverà dal mare con un battello, ovviamente sarà scortata dalla Capitana di Porto, dalla finanza nautica e anche da imbarcazioni del salvataggio, quindi sarà una Befana scortatissima.